Ben trovati in questo video, vediamo quella che è l'esecuzione in particolare di Gokyo il quinto principio tecnico di Jiu Jitsu è Ude Nobashi che letteralmente possiamo tradurre come stiramento e estensione della panoraccia è una variante per certi aspetti di Ikkyo, nella didattica noi la abbiamo solamente in Ura, non esiste in Omote e per certi aspetti è uguale a Ikkyo Ura, cambia solamente la chiusura finale, la vediamo da Cattadelore, possiamo vedere anche da Cattadelore, l'idea è quella che sulla presa che abbiamo visto per esempio U ora partiamo a Cattadelore, vado a fare Ikkyo Ura, entro, da fare Ikkyo Ura U, Mentre normalmente Ikkyo Ura, la mia pressione più accentuata diciamo sul Gokyo, in questo caso quando scendo sono qui ma stiro un po' di più con questa mano, quindi invece più che premere con questa è come se la estendessi, in modo tale da avere una sorta di coda di riccio come se facessi U1 e poi tirassi un po' di più, è un po' difficile da mostrare senza ok ma ci dovrà, quindi vediamo come se facessi U1, U1, rotazione, scendo giù, e stendo qui, ok, andiamo subito ovviamente, anche in A, normalmente non la si trova appunto su queste azioni perché è come se nascesse da una presa di strappolato di Ikkyo, mentre Ikkyo lo farei in questo senso qui e da sotto, in questo caso c'è una presa di masocca, quindi tutte le condizioni in cui la mia presa cambia in questo senso, vediamo su Jokome, o come abbiamo visto adesso su Karademi, ok, 1, vado qui, 1, 2, 3, nella visione è abbastanza difficile distinguerla da Ikkyo, è ok che di solito sento la differenza della azione. Quello che possiamo fare con un esercizio usando per esempio il nostro Neribo è quello di fare Ikkyo, Gokyo, Ikkyo, Gokyo, Ikkyo, Gokyo, Ikkyo tira a destra, ovviamente lavorano sempre per tutte le mani, molto due le braccia, su tutto il corpo, solamente un modo per focalizzarci sul uno piuttosto che sul uno quindi icchio, spinge sinistra, sinistra a destra gocchio, cambio l'impugnatura cambio la presa tira la destra verso la destra ok? icchio gocchio icchio gocchio ecco questo e quindi anche ripeto nell'esecuzione noi abbiamo questa particolarità che con tutte quelle che sono le prese che io vado a prendere dall'alto lì dove potrei avere una difficoltà nell'eseguire icchio con questa presa qui appunto mi ritrovo come gocchio e posso eseguire questa ringrazio l'attenzione un video breve ma sul gocchio in realtà sarebbe tanto da dire ma ripeto tanto è stato detto di video precedenti quindi possiamo fermarci vi ringrazio l'attenzione vi auguro buona pratica e vi do appuntamento al prossimo e vi do appuntamento al prossimo